Agli ordini dello starter, la runner pride va in avanti cercando la corda, la corda che però non è lo steccato, è il mezzo vista. C'è Sinifer e Alzefra che hanno fatto anche la loro partenza e provano entrambi a sfondare, operazione concretizzata. Fabio Branca è Sinifer, punto di riferimento per Alzefra che procede, runner pride che è terzo, quarto è Maccagno. Ah, ce n'è uno lontano, quello giusto, ce n'è uno lontano che dovrebbe essere Danau. Stavamo controllando come mai erano sei, uno non è inquadrato ma è lontanissimo. Siamo addirittura, runner pride è passato, Maccagno al suo interno, i due provano allungare, Daorna Benami che procede Wishforce, runner pride contro Maccagno, runner pride è in vantaggio. Su Maccagno nella sua scia che prova un aggancio conclusivo, runner pride è in vantaggio, Maccagno ci prova, runner pride e Maccagno, i due lightweight che se la giocano, runner pride in vantaggio. Salvatore si è girato a controllare, è al sicuro da Maccagno, 7-8, terzo Orna Benami, 4-7-8, 4-runner pride, il favorito su Maccagno, 7-8, terzo Orna Benami. Dalla postazione centrale per la sesta di Pisa è tutto, studio è Enrico a seconda di chi ha bisogno della linea.